Quali carte si distingueranno tra le altre nel secondo set di l'Orkana? Cosa le renderà così potenti? E a quali inchiostri apparterranno? Nel video di oggi troverete la risposta a queste domande. Signori, bentornati sul canale con il nostro consueto appuntamento settimanale. La data dell'arrivo del secondo atto di l'Orkana si avvicina e con esso anche 204 carte nuove di zecca che andranno ad arricchire ancora di più il TCG targato Disney. Tra queste ci saranno degli elementi che spiccheranno per potenza o altri aspetti nello specifico, che rafforzeranno le fila del proprio ink di appartenenza aumentando allo stesso tempo il grado di pericolosità di alcuni archetipi di deck già esistenti. E non solo. Nel video di oggi infatti andremo, grazie all'articolo pubblicato su Fantasia Store da parte di Antonio Kane Lepera, del gruppo l'Orkana League Italia, alla scoperta di tutti quegli elementi che diranno di certo la loro in un meta in costante mutamento, pronti a sorprendere ogni illuminatore, che con questo secondo capitolo del gioco possiederanno ancor più armi a propria disposizione, pronte per essere utilizzate in match sempre più avvincenti. Prima di continuare, se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi al canale, così crescendo potrà portare sempre più contenuti interessanti e ricercati dedicati allo sconfinato universo dei TCG. In più in descrizione troverete anche i link che vi riporteranno al profilo Instagram, dove pubblicherò storie per aggiornarvi su nuove uscite e molto altro ancora, e alla pagina Facebook. Grazie infinite per il supporto, torniamo al video. Ed ora scopriamo assieme quali saranno le carte più incisive quando Rise of the Floatborn, il secondo set di L'Orkana, arriverà sui tavoli da gioco. Andiamo a dargli un'occhiata. Cinderella Stoutard Sicuramente una delle carte più forti e interessanti di questa prima parte di spoiler, Cinderella Stoutard offre, per un costo di 7 inchiostri, valori di forza e volontà di 5, punteggio lore di 3 e le abilità resist più 2, i danni inflitti a questo personaggio sono ridotti di 2, e the singing sword. La prima abilità è una grande novità introdotta con Rise of the Floatborn. Questa nuova keyword, Resist più X, indica che il personaggio riduce di X tutti i danni che gli vengono inflitti, considerando ogni fonte di danno separatamente. Questo influenza tantissimo la durabilità dei personaggi che dispongono di Resist, neutralizzando o riducendo l'impatto di molte fonti di danno che hanno fatto il bello e il cattivo tempo in The First Chapter. Tinkerbell, Giant Fairy e Grabio Sword sono due ottimi esempi, ma anche rendendo il glimmer molto più efficiente nelle sfide, da cui può uscire facilmente il leso. La seconda abilità di Cinderella invece ci fa capire che, sebbene questa carta abbia le caratteristiche per trovare spazio nella maggior parte dei mazzi acciaio, renderà anche in particolar modo in quelli ricchi di carte canzone. The Singing Sword infatti permette a Cinderella di sfidare i personaggi avversari preparati durante i turni in cui giochiamo una canzone, rendendola un'aggiunta quasi scontata ai già forti ed affermati mazzi, ambra acciaio midrange e aggro. Da notare che, inserendo nel mazzo anche la nuova Cinderella Knights in Training, potremo sfruttare al meglio anche lo Shift 5 di Cinderella Stoutard, mettendo così pressione all'avversario già da turno 5. Mickey Mouse Friendly Face. In questa nuova versione dell'iconico simbolo di Disney, Mickey Mouse si presenta con un costo di 6 e la possibilità di essere incato. Un modesto valore 1 di forza e ben 6 di volontà, assieme ad un punteggio lore di 3 e un'abilità che permette, ogni volta che Mickey Mouse Friendly Face va all'avventura, di ridurre il costo del prossimo personaggio giocato durante il turno di 3. Carta che si sposerà particolarmente bene con i mazzi aggro per l'elevato punteggio lore e la sua abilità che permette di scontare personaggi di alto costo, aprendo così alla possibilità di varianti più orientate al mid-game per questa tipologia di mazzi. Mulan Reflecting. Costo 4, incabile, forza e volontà 3, punteggio lore 2, Shift 2 e l'abilità Honor to the Ancestor, Mulan Reflecting potrebbe essere, assieme a Cinderella Stoutard, un'altra candidata interessante per l'implementazione dei mazzi ambra acciaio, mid-range e aggro. Lo Shift a costo 2 conferisce una maggiore e più rapida pressione anche in combinazione con la sua abilità, con la quale ogni volta che Mulan questa potremmo rivelare la prima carta in cima al mazzo e, nel caso in cui fosse una canzone, giocarla gratuitamente. Giocare gratuitamente Grabio Sword a turno 3 significherebbe assistare un colpo durissimo a qualsiasi mazzo aggro, ma potrebbe essere piuttosto interessante anche la sinergia di Mulan Reflecting con il colore ametista, in grado di manipolare la cima del mazzo con carte come Ursula's Cauldron e, guarda caso, la canzone Reflection. Mufasa, Betrayed Leader. Il vero re è tornato e si presenta nella sua veste di carta leggendaria come Glimmer costo 5 incabile, armato di forza e volontà 3, punteggio lore di 2 e soprattutto dall'abilità The Sun Will Set, grazie a cui, quando Mufasa Betrayed Leader lascia il campo, possiamo rivelare la carta in cima al nostro mazzo e, se si tratta di un personaggio, giocarlo gratuitamente, ma impegnato. Sicuramente da provare negli archetti piaggro per poter riempire molto più velocemente il campo di gioco e, in combinazione con Hades, Lord of the Underworld, per rigiocare Mufasa Betrayed Leader. World's Greatest Criminal Mind. Anche se non è forte ed impattante come Dragonfire, è arrivata la prima removal ambra. World's Greatest Criminal Mind è una canzone incabile dal costo 3, che permette di rimuovere immediatamente dal campo di gioco un personaggio con forza 5 o superiore. Ideale per gestire minacce di grossa entità, aiuta i mazzi agro a controllare il campo di gioco nelle fasi più avanzate della partita. Sicuramente da menzionare la combinazione interamente ambra con Mulan Reflecting, di cui abbiamo già parlato. Pinocchio Star Attraction. Anche se è un costo 2 non incabile e con dei miseri valori di forza e volontà di 1, il punteggio Lord di 3 rende Pinocchio Star Attraction una carta aggressiva molto temibile. Assieme a Maleficent Binding Her Time, costituisce una coppia che vedremo giocare molto probabilmente nei mazzi Ambra Ametista Agro Turbo e Ametista Smeraldo Evasive. Sher Khan Menacing Predator. Non lo sai che tutti scappano di fronte a Sher Khan? L'antagonista del libro della giungla debutta in una forma più pericolosa che mai. Sher Khan Menacing Predator introduce infatti un nuovo e interessante modo di ottenere lore senza mandare personaggi all'avventura. L'abilità Don't Insult My Intelligence permette di acquistare un punto lore ogni volta che un nostro personaggio sfida un altro personaggio, favorendo uno stile di gioco improntato al controllo del campo tramite i propri personaggi in perfetto stile rubino. Sher Khan inoltre rende ancora più efficace la combinazione tra Aladin Heroic Hotlo e Shield of Virtude, che già di suo permette di accumulare velocemente grandi quantità di lore, togliendole all'avversario e contestualmente eliminando le minacce presenti sul suo campo di gioco. Bell Hidden Archer. La leggendaria verde Bell Hidden Archer si presenta come un glimmer floodborne ben diverso rispetto alla classica veste di Bell, forte di un'abilità difensiva assai problematica per chi decidesse di sfidarla. Carta a costo 5 e non incabile, con forza e volontà 3 e un punteggio lore di 3, Bell Hidden Archer può contare sullo shift a costo 3 per essere giocata ben prima di turno 5. La sua abilità costringe l'avversario a scartare l'intera mano per sfidarla, un prezzo decisamente alto che, assieme all'alto valore di lore, la classifica come minaccia ad alta pericolosità. Bell Hidden Archer potrebbe trovare spazio in diversi mazzi che sfruttano Smeraldo. In acciaio Smeraldo Mill costituirebbe una solida minaccia per l'elevato punteggio di lore, permettendo di attuare una strategia alternativa per la vittoria, ma probabilmente darà il meglio di sé nel nuovo archetipo Discard proprio a base Smeraldo. Beast Relentless. Al colore Smeraldo mancavano gli strumenti per contestare efficacemente le minacce avversarie ad esclusione di carte Bounce Tempo, ed ecco che in Rouse of the Floatborn arriva Beast Relentless. Costo 6, Incabile, Forza 4, Volontà 5 e punteggio di lore di 2 costituiscono le caratteristiche di base di questa seconda leggendaria verde che con l'abilità Second Wind è in grado di sfidare o addirittura questare più volte al turno. Tornando a prepararsi per ogni personaggio avversario che viene danneggiato, questa carta offre la possibilità di fare facilmente 2x1 e per questo motivo verrà probabilmente inserita nella grande maggioranza dei mazzi che giocano Smeraldo. Sinergie evidenti che coinvolgono questa carta sono quella con ambra, ossia la sequenza sfidare, ripreparare bestia, giocare in Rapunzel Gifted with Healing che ci permette di fare vantaggio carte mantenendo Beast Relentless curata, ma anche e soprattutto quella con acciaio. Inchiostro che fa dei danni il suo punto a forza, questo colore ha il potenziale di permettere alla bestia di accumulare lore a una velocità impressionante. Cogsword Grandfather Clock Cogsword Grandfather Clock porta l'abilità Resist su un nuovo livello, applicandone gli effetti a ogni altro personaggio che abbiamo in gioco. Similmente all'Aurora Dreaming Guardian del First Chapter, questa carta darà grande supporto a tutti i mazzi ricchi di personaggi e sarà probabilmente giocata in supporto ai mazzi acciaio. La possibilità di shift a costo 3 permette di giocare Cogsword nelle prime fasi della partita, mentre Ward rende decisamente più difficile rimuoverlo. In multiple copie poi dona tutto il nostro board Resist più 2, rendendo veramente difficile per l'avversario gestirlo tramite sfida. In termini di sinergia con altre carte non serve andare tanto lontano per trovare combinazioni interessanti. In un mazzo con la già citata Cinderella Stoutard, quest'ultima arriverebbe ad un valore di Resist più 3, riducendo quindi i danni subiti di 3, una combo molto interessante e che rafforza ulteriormente la buona accoppiata di inchiostri acciaio Zaffiro. Sisu Divine Water Dragon Ad un costo di 4, non incabile, Zaffiro propone una leggendaria degna di questo nome. Per la gioia di tutti gli amanti dei draghi, debutta tra le carte di Lorcana Sisu Divine Water Dragon. Forza 2, Volontà 4 e un punteggio Lor di 2 fanno da base per una carta che splende soprattutto grazie alla sua abilità I Trust You. Quest'ultima, veramente ottima nel fare card selection e vantaggio carte allo stesso tempo, rende questo personaggio decisamente interessante e ci spinge a considerare quello che potrebbe diventare uno dei mazzi control più intriganti, Rubino Zaffiro. Sisu infatti non è l'unica carta Zaffiro in grado di fare card selection e vantaggio carte tra quelle spoilerate finora e porta ad affiancare questo inchiostro ad ametista nella capacità di sostenere questo ruolo fondamentale per i mazzi control. Gaston Intellectual Powerhouse Un'altra carta a supporto del già citato mazzo Rubino Zaffiro è Gaston Intellectual Powerhouse. Costo 6, sempre non incabile ma dotato di shift a 4, questo glimmer da forza e volontà 4 vanta un ottimo punteggio Lor di 3 e l'abilità Developed Brain che consente di vedere le prime tre carte in cima al mazzo, sceglierne una da tenere in mano e mettere le altre due in fondo. Ottimo strumento di card selection quindi, potenzialmente shiftabile sul già presente Gaston Arrogan Hunter di Rubino. Di certo l'ascesa vedrà nuovi protagonisti delle favole Disney calcare il terreno di gioco e creare sinergie sempre più avvincenti che metteranno a disposizione di ogni illuminatore scenari innovativi dai quali prendere spunto per affrontare nel migliore dei modi gli incontri che li vedranno protagonisti. Prima di concludere volevo ringraziare ancora una volta Fantasia Store e Antonio Kane Lepera per aver messo a disposizione l'articolo sul quale questo contenuto si è basato, invitandovi inoltre a leggerlo attentamente per scoprire anche i nuovi archetipi di deck che potranno vedere la luce grazie proprio all'arrivo del secondo set di Lorcana. Inoltre volevo ricordarvi che in data 23 dicembre andrà in scena il torneo The Goat Capre e Principesse, organizzato dagli stessi signori di Fantasia Store dove i personaggi Disney potranno sfidarsi in un evento all'insegna del divertimento in quel di Milano. Per maggiori informazioni in merito vi lascerò tutti i link come sempre in descrizione. Illuminatori di ogni dove hai posti di partenza, un nuovo capitolo di Lorcana sta per essere scritto. E voi, siete pronti a viverlo da protagonisti? Come sempre fatemelo sapere nei commenti. Mi auguro che questo video sia stato di vostro gradimento, prima di salutarci vi invito a cliccare qui a sinistra se vorrete scoprire altri contenuti interessanti legati al mondo dei DCG. Vi ringrazio di essere stati in mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video.